Ebbene sì, ho provato il Ryzen 5 5600X. Questa recensione, che in realtà non è una recensione, si dividerà in tre punti. Come si comporta in gaming, come si comporta in produttività e dovete acquistarlo o no? Rimanete sintonizzati. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto ho provato il Ryzen 5 5600X. Se vi steste aspettando una recensione piena di numeri, piena di benchmark, dimenticate una recensione simile. Per spulciare per bene questo chip, vi lascio comunque i dati di MV Hardware. Marco infatti è stato così gentile da prestarmi questa CPU per qualche giorno e nel suo canale c'è una recensione molto 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 approfondita riguardo appunto questo chip. È lo stesso, quindi andate a vedere il suo video. Tornando a noi, io volevo più fare una chiacchierata riguardo questo chip. Allora, dobbiamo coprire tre punti. Uno, il gaming. Ragazzi, a questo prezzo e venduto da AMD questo chip costa 304 euro. Con la spedizione arriviamo a 320 euro. È il migliore in gaming, ragazzi. Questo piccolo 6 core 12 thread della generazione 5000 con architettura Zen 3 è il vincitore per quanto riguarda la categoria gaming fine 2020 e probabilmente inizio 2021 visto che Intel dovrà uscire verso marzo con i suoi nuovi processori. La cosa che mi ha sorpreso è che io non ho, come la maggior parte di voi, ancora tra le mani una 3080. Sulla mia vecchia 2080, che è comunque una signora 2080, stiamo parlando di una MSI Gaming X Trio, io ho recuperato in 2K, nemmeno in Full HD 2K, ho recuperato 10 frame al secondo di media su giochi come Assassin's Creed Valhalla. Adesso ho fatto dei benchmark live, ragazzi. In live, in streaming, che vi consiglio di andare a vedere. Vi lascio comunque il link in descrizione su Twitch. E vi ricordo anche che io streammo tutti i giorni, orari diversi, per cui venite a trovarmi e dire Ehi, ciao, ho visto il tuo video. Tornando al gaming, lo scenario migliore in cui questa CPU dà effettivamente il suo meglio è l'overclock. Allora, questo chip, secondo sempre Marco di MV Hardware, può arrivare a 4.8 GHz, ok? La mia scheda madre, a quanto pare, non ha ancora un BIOS totalmente ottimizzato per i Ryzen 5000, nonostante sia una top di gamma di MSI e in pratica mi ha fatto arrivare al massimo a 4.7 GHz. 4.7 GHz, ho avuto un bel boost effettivamente in single core. Ma la cosa che secondo me molti di voi dovrebbero fare è onde evitare di danneggiare la CPU se casomai non siete così esperti e se poi volete testare i limiti della CPU sono fatti vostri, ve la vedete voi, è inserire la CPU nella scheda madre e lasciare che tutto sia controllato dalla CPU stessa o dal BIOS della vostra scheda madre. Infatti, questo processore, che vi ricordo è il peggiore finora mostrato da quelli di AMD, riesce a boostare di su a 4.6 GHz, ragazzi. 4.6 GHz, con il nuovo sistema di cache dei Ryzen 5000, significa un improvement davvero molto molto sostanzioso nel gaming. Ma davvero tanto, credetemi. Si parla praticamente in single core di punteggi sintetici che superano anche il 10900K. Il 10900K costa circa 500€. Vi ricordo, questo qui costa circa 300€. La cosa che più mi ha sorpreso è come effettivamente i giochi traessero beneficio da questo innalzamento delle frequenze, ma soprattutto dall'improvement all'IPC. Cosa sono gli IPC? Sono le instruction per clock. Sappiamo benissimo che la serie 5000 di Ryzen ha un nuovo layout interno di cache e i giochi richiedevano, in piattaforma Ryzen, questo aumento di IPC. Ed è una cosa fantastica. Ci sono semplicemente lodi, dal mio punto di vista, per quanto riguarda questa CPU in gaming, ragazzi. Io non so più come dirvelo. O su una B550 o su una X570, se già ce l'avete, comprate questo se volete solo giocare. Punto. Volete giocare al massimo delle prestazioni in Full HD e anche in 2K con una scheda grafica come si deve? Questo. Que, qui, questo. Dovete comprare questo. Lato produttività. Allora, diciamo che ogni CPU, ogni CPU, anche un 2-core 4-thread, può essere utilizzato in produttività se gli viene assegnato un solo task. Che significa? Se io dico al mio PC, o in questo caso a questo processore, di renderizzare un video, lo renderizza? Certo che lo renderizza. Con buone prestazioni? Questo dipende. Io sono abituato a utilizzare un Ryzen 9 3950X, un 16-core, 32-thread, che costa più o meno il doppio di questo qui. Va il doppio? Decisamente più del doppio. Però sempre riguardo la produttività. In pratica, se io andassi a renderizzare un video in 4K, 100Mbps con questo processore, io ci metterei circa, in H.264, chiedo scusa, ci metterei circa 4 minuti e 40 secondi. Con questo, invece, dato che comunque ha meno della metà della potenza grezza, ci metterei oltre 10 minuti. È un danno così grave? Per voi può darsi che non lo sia. Per me, che sono abituato comunque a far uscire dei video, a streammare, a renderizzare, comunque anche mentre nel frattempo faccio altre cose, è un fastidio, non è un danno, ok? Dovete comprare una CPU in base al vostro utilizzo, in base a quanto voi diate valore al vostro tempo, ok? A me, praticamente, 4 minuti, 5-6 minuti in più di rendering non fanno la differenza. Ma la cosa che fa la differenza e la cosa che mi fa propendere verso questo processore sono le istruzioni in parallelo. Io ho fatto, appunto, la live che vi ho detto prima, streamando col 5600X. Ed è stato, non un'esperienza cattiva, assolutamente, però io che sono abituato a streamare 1080p a 60fps con tantissimo overlay, tantissimi layout, eccetera, eccetera, vi posso dire che per me non è stata assolutamente una passeggiata. I giochi statteravano, infatti, secondo me, a meno che voi non streamiate in 720p, 30 o 60fps, voi non potete streamare agevolmente con questa CPU. I giochi statteravano, tutto il sistema era molto, molto più lento, c'erano dei ritardi proprio nei comandi e chi era in live l'ha visto. Questo che cosa significa? Che questo processore io l'ho portato al limite delle sue capacità. Per quanto riguarda molti processi in parallelo, non è che sia la scelta migliore. Infatti, se volete streamare e renderizzare agevolmente, io vi consiglio comunque un 8-core. Questo processore, comunque, sui benchmark grezzi, arriva quasi alle prestazioni di un 3700X. Ragazzi, ma parla di un 6-core 12-thread contro un 8-core 16-thread. Questo vi fa capire quanto questa architettura nuova, la Zen 3, sia migliore rispetto a Zen 2. Va bene che ci sono frequenze in più, ma c'è proprio all'interno questo dannato sistema di cache, questa Infinity Cache, che fa paura. Permette a un processore a 6-core di comportarsi quasi come un 8-core. Poi è normale, due core fisici in più aiutano nelle prestazioni, appunto, nei processi in parallelo. Ma porca miseria, questo chip è impressionante, davvero impressionante. Se volete un altro metro di paragone, ho provato a fare un photomerge su Photoshop. Cos'è un photomerge? Prendete, per esempio, 25 foto, le unite tutte quante insieme per avere il massimo del dettaglio. Con un file che usciva più o meno di dimensioni di 2 giga, ecco, questa CPU ci ha messo oltre 20 minuti. Questa CPU, cioè il 16-core, ci ha messo sì e no 8 minuti e 20 secondi. Questa è la potenza bruta di una CPU. Fatto sta che comunque un 6-core 12-thread riesce a farlo tranquillamente, non lo fa aggievolmente come una CPU con più core, ma questo è la palistiano. Adesso, il punto più importante, secondo me. Dovresti acquistare questa CPU? E per rispondere a questa domanda, mi faccio un sorso di re. Sì, la risposta è sì. Dovete acquistare questa CPU se volete giocare, ovviamente perché questa è la migliore CPU per gaming presente sul mercato. Ovviamente non pagarla più di 350€ perché là vi stanno scammando di brutto. Infatti dovete essere abbastanza affortunati di andare sul silo DMD e trovarla intorno ai 304 o 320€, più o meno con la spedizione. E quel prezzo per queste prestazioni è un furto. Non troverete qualcosa di simile da nessun'altra parte. Il Ryzen 5 3600 batte solo questo per performance e prezzo solo perché costa 100€ in meno. Altrimenti, raga, il king del gaming è questo qua. Per la produttività, se non avete grandissime pretese, cioè se un video per voi deve renderizzare in 20 minuti e questa CPU lo renderizza in 25 minuti, ma a voi che vi frega? Nel senso, è un'ottima CPU anche per fare quello. Ovviamente non è lontanamente paragonabile a una CPU a 16 core o anche a 12 core. Se volete effettivamente una CPU buona per poter streamare, renderizzare e fare casomai tutte e due le cose senza alcun problema, io comunque suggerirei di andare su un 8 core. Il 5800X è la scelta che mi sembra più sensata, ma anche il 3800X o il 3700X non sono da buttare visto che il prezzo di queste due ultime CPU si sta abbassando davvero di tanto. Ragazzi, che vi devo dire? Io sono estremamente sorpreso e contento di questa CPU. Dal mio punto di vista, che è quello di un ragazzo che ha sempre streamato con CPU a 8 core o con due schede grafiche, ma quelli sono altri processi, è dannatamente impressionante. È una bestia. Questa CPU è una bestia. Il Ryzen 5 5600X col prezzo che dovrebbe essere circa 320 euro con la spedizione è un affare dannatamente, dannatamente buono. Se non l'abbiamo capito, questa è la CPU peggiore per quanto riguarda la qualità del silicio in confronto alle altre tre che AMD ha presentato. E comunque è una bestia. Ragazzi, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ripeto, se volete vedere i dati precisi vi rimando al video di Marco di MV Hardware, c'è tutto in descrizione comunque. Lì ci sono appunto numeri, settaggi, voltaggi, benchmark e vi posso dire che se siete dei feticisti dei numeri sarete molto molto sorpresi e molto molto accontentati. Io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. E nulla, vi ricordo che streammo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, martedì e giovedì dalle 17 e passate a trovarmi. In descrizione ci sono comunque i link di Twitch, di Instagram, di Discord. Ci abbiamo sezioni dedicate ai videogiochi, sezioni dedicate al troubleshooting PC. Se avete qualche problema entrate, ci sarà sicuramente qualcuno in grado di aiutarvi. E nulla, cerchiamo di creare questa bella community che già è bella così, ma cerchiamo di allargarla. Ragazzi, il video finisce qua. Questo processore è una bestia, se non l'avete ancora capito. Ragazzi, dovete comprarlo, lo dovete comprare, lo dovete comprare, se volete solo giocare, lo dovete comprare. Funziona dannatamente bene. Per me, no, non va bene, perché io sono un creatore di contenuti, uno youtuber, uno streamer, chiamatemi come volete, qualche corre in più mi fa sicuramente comodo. Detto ciò, grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui con il vostro G. Compratelo se volete solo giocare. Ciao!